buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto al lago di molveno però passando da tutti i sentieri mi faccio le creste su allora ho deciso di andarci lo stesso però il tempo fa un po schifo però anche domani dovrebbe essere così quindi ormai me lo becco così oggi si è tutto un saliscendi così mi sa che per un bel po è così e questo si fa si fa un altro atto di salita di qua ecco con una ringrazia bellissimo il strato bellissimo Sì La dottanzella E qualcuno sì Non è neanche leggerina Per niente Non è neanche leggerina Non è neanche leggerino Non è neanche leggerino Non è neanche leggerino Aspetta Questi cartelli ma non so Se sono questi o no Esatto Danno tutto di qua 805 Però quasi quasi mi fermo un attimo alla parte Questa è un po' di qua Questa è un po' di qua 805 Eccolo lì l'805 Seagate il 805 Fa parte anche dei beer trails Che è quello di tutto comprensorio L'esperienza a sinistra L'esperienza a sinistra Non c'è nessuna indicazione E' un'altra cosa è un po' di qua E' un po' di qua Che è il segret trail Non è ancora iniziato Non arriva più sto Sigret Trail. Da una parte ti scaldi, ma era di là la tradittoria giusta a questo. Ok, scanziamo un attimo invece e guardiamola, perché non è facile. Questo è uno dei passaggi più difficili della Paganella, se ho capito bene. E qui non è facile tenere la sua. Se passi qui, arrivi qui. Non è facile. Eh, non è proprio facile. Proviamo. La giusta a destra. Eh no, su non ci fa. Vai, 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 vai che la chiudo. Come direbbe Masserini, alla Carpentiere. Quando lo vedi nel video, già mi faceva paura. Ho capito che il sentiero è. Un po', ho guardato qualcosa, ma non lo conosco di mangiare. Povera bici. Anche questa è tostina, eh. E qui c'è la molla. Sinistra. Ok. Qui molla. Ok. Sinistra. Abbiamo detto che era tosta, sì. L'avevo visto che andava di traverso. Ormai c'ero, ho detto, vabbè. Ho sbagliato tutta la traiettoria. Volevo passare alto per lo che andava tutta. Seconda il cuore. Come via. No. Volevo passare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È l'unico sentiero finora dove mi sono fermato un paio di volte, ma sapevo già che era così, avevo già messo in previsione. Quando in Trentino dicono che è difficile, è difficile, questo è sicuro. Grazie a tutti. Qui si rientra il locivoloso peggio che mai. Grazie a tutti. Vi andiamo con calma. Vi andiamo con molta calma. Tutto scavato col dietro. Il sistema sentieri mi sta odiando in questo momento. Grazie a tutti. Oh. 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 E' un bel sito di qui. Il guido parabolico al dritto direi al dritto. Questo è già sul sentiero. Il cerchio. Lo sto distruggendo queste settimane. Poglia. Poglia. Sono degli altri gradoni. anche a sediosti. Anche a sedosti. Poglia. 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 Eccolo qui. Ce l'abbiamo fatta. Mamma mia. Eh. Però dai. La maggior parte l'ho chiuso. Spero che non pensavo di chiudere. L'ho chiuso. Poglia. Rettimi bene pescemo. Perché parlo per il video. E mi sentono parlare da solo. Classico. Bello però. Un giro di là. Come lo vado a fare. ANK YOU. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.